Seconda parte della tredecesima lezione per l'insegnamento di analisi matematica 1b. Ora che abbiamo il teorema del differenziale totale a disposizione, diventa molto più semplice in diverse situazioni verificare la differenziabilità. Ad esempio, se vi ricordate, nella lezione precedente abbiamo verificato, usando la definizione di differenziabilità, che la funzione f di xy definita come x seno di y è differenziabile nel punto, avevamo preso, mi pare, meno 2 pi grico terzi. Ecco, se andate a vedere il lavoro che abbiamo fatto per verificare questa cosa nella lezione precedente, troverete che abbiamo dovuto fare diversi calcoli per verificare il limite che definisce la differenziabilità. In realtà, se andiamo adesso a fare la derivata parziale di f rispetto a x, troviamo che la funzione è seno di y, che è una funzione continua ovunque. Se andiamo a fare la derivata parziale di f rispetto a y nel punto x, y, troviamo la funzione x coseno di y, che è il prodotto di due funzioni continue, quindi è continua. E quindi cosa abbiamo? Le derivate parziali sono definite ovunque e continue ovunque, e quindi per il teorema del differenziale totale f è differenziabile in ogni punto, perché ha derivate parziali e continue ovunque. Vedete, quindi una volta che abbiamo a disposizione il teorema del differenziale totale possiamo risparmiarci di fare i calcoli del limite una volta che abbiamo trovato che le derivate parziali sono continue, un notevole risparmio di energia e di fatica. Il teorema del differenziale totale ci fornisce una condizione una condizione sufficiente per la differenziabilità. Non è necessario però che le derivate parziali siano sempre continue affinché la funzione sia differenziabile. Vediamo adesso infatti un controesempio che ci fa vedere che ci sono anche funzioni differenziabili in cui le derivate parziali non sono continue. Quindi vediamo questo, chiamiamolo controesempio per verificare che le condizioni della continuità delle derivate parziali sono sufficienti ma non sono necessarie. Allora, partiamo con questa funzione qui. Andiamo, consideriamo la funzione fi di t definita come t quadro coseno di 1 su t quando t è diverso da 0, t è una variabile reale e in 0 la poniamo uguale a 0. Come è fatta questa funzione? Possiamo intuire come è fatto il suo grafico osservando la seguente cosa andiamo a disegnare l'inviluppo dato dalla funzione y uguale t quadro quindi andiamo a disegnare la parabola y uguale t quadro la t la mettiamo in orizzontale e la y in verticale e andiamo a disegnare anche la sua opposta y uguale meno t quadro la fi che cos'è? è la funzione t quadro moltiplicata per il coseno di 1 su t cosa fa il coseno di 1 su t? il coseno di 1 su t oscilla fra 1 e meno 1 quando t tende a 0 1 su t tende a infinito quindi in un intorno di 0 abbiamo una funzione che fa infinite oscillazioni fra meno 1 e 1 però tutto è moltiplicato per t quadro quindi otteniamo una funzione che oscilla fra meno t quadro e t quadro con oscillazioni sempre più frequenti quindi più mi avvicino a 0 più le oscillazioni cominciano ad essere rapide ma la funzione comunque tende a 0 perché è schiacciata tra queste due parabole quindi sicuramente è continua andiamo a verificare se questa funzione è derivabile per t diverso da 0 abbiamo una composizione di funzioni derivabili quindi se t è diverso da 0 abbiamo che la derivata si può calcolare con le regole solite quindi facciamo la derivata del primo fattore 2t per il coseno di 1 su t più t quadro per la derivata di coseno di 1 su t quindi avremo meno seno di 1 su t che moltiplica la derivata di 1 su t cioè meno 1 su t quadro e osserviamo che t quadro e meno 1 su t quadro c'è qualche semplificazione meno per meno inoltre fa più quindi troviamo che la derivata è 2t coseno di 1 su t più meno per meno fa più t quadro sopra e sotto si semplificano e rimane il seno di 1 su t non posso usare questa formula per t uguale a 0 perché abbiamo dei t al denominatore però posso usare il limite del rapporto incrementale per calcolare la derivata in 0 quindi andiamo a fare il limite per t che tende a 0 di fi di t meno fi di 0 diviso t meno 0 fi di 0 abbiamo detto è 0 quindi otteniamo fi di t fratto t quindi questo è il limite per t che tende a 0 se facciamo fi di t diviso t ci rimane t per coseno di 1 di t quindi t per coseno di 1 su t e questa funzione qui è comunque limitata questa t tende a 0 quindi una funzione limitata per una funzione infinitesima è infinitesima e quindi la derivata di fi esiste anche quando t uguale a 0 quindi fi è derivabile in ogni punto ma la derivata di fi di t non è continua perché non è continua perché se voi andate a fare il limite di fi primo di t il limite per t che tende a 0 non è continua in t uguale a 0 se fate il limite per t che tende a 0 di fi primo di t cosa ottenete? beh, il primo pezzo abbiamo visto che è una quantità che tende a 0 mi rimane il seno di 1 su t quindi otteniamo il limite per t che tende a 0 del seno di 1 su t ma questa è una funzione che non ha limite questo limite non esiste perché? perché quando 1 su t tende a infinito il seno compie infinite oscillazioni se provate a disegnarne il grafico ottenete qualcosa che in un intorno di 0 compie infinite oscillazioni in un intervallo che è all'incirca meno 1 o 1 ok questa è una funzione però di una variabile con questa funzione andiamo adesso a costruire una funzione di due variabili quindi definiamo f di x y uguale fi di x più fi di y dove la fi è questa funzione che abbiamo appena considerato siccome la fi è derivabile abbiamo anche la derivata parziale di f rispetto a x non è altro che la fi primo di x più 0 perché la seconda parte non dipende da x la derivata parziale di f rispetto a y sarà analogamente la fi primo di y sono ben definite quindi sono derivabili ma cosa abbiamo? abbiamo che siccome la fi non è continua la fi primo non è continua abbiamo che la derivata parziale di f rispetto a x e la derivata parziale di f rispetto a x non sono continue però se andiamo a calcolare il gradiente di f nell'origine cosa abbiamo? abbiamo la derivata di fi in 0 e anche qua la derivata di fi in 0 ovvero 0,0 perché fi primo di 0 abbiamo calcolato in 0 quindi la funzione è derivabile nell'origine ci chiediamo ci chiediamo se f è differenziabile in 0,0 e quindi cosa dobbiamo? andiamo a verificarlo con il limite quindi dobbiamo fare f di 0,0 meno il gradiente di f in 0,0 scalare x,y scusate f di x,y meno f di 0,0 meno il gradiente di f ecco questo è il numeratore che sta nel limite che dobbiamo verificare diviso la norma di x,y meno 0 quindi la norma di x,y dobbiamo fare questo rapporto e ci chiediamo se questa quantità qui tende a 0 per x,y che tende a 0 quindi ci chiediamo se vale questo limite ma abbiamo visto che il gradiente questo qui è il vettore 0,0 f di 0,0 anche questo vale 0 perché la fi di 0 è 0 fi di 0 è 0 quindi quando mettiamo 0 abbiamo che f di 0,0 è fi di 0 più fi di 0 due volte 0 fa sempre 0 quindi alla fine ci riduciamo a verificare che f di x,y diviso la norma di x,y tende a 0 quando la x,y tende a 0 ma questo che cos'è? questo è f di x,y non è altro che f di x,y è fi di x più fi di y e sotto abbiamo la norma di x,y ma per come è fatta fi per come è fatta fi abbiamo che fi di t è sempre minore uguale di t quadro perché è t quadro moltiplicato per qualcosa che varia fra meno 1 e 1 e quindi quando andiamo a fare il nostro calcolo se prendiamo il valore assoluto di questa cosa questo sarà minore o uguale della somma dei valori assoluti e quindi questo è minore o uguale e qui abbiamo fi di x è minore o uguale di x quadro fi di y è minore o uguale di y quadro diviso e qui abbiamo esattamente la radice quadrata di x quadro più y quadro questo non è altro che la radice quadrata di x quadro più y quadro ovvero la norma di x y e questa quantità qui tende a 0 quando x y tende a 0 0 perché la norma è una funzione continua e dunque abbiamo che f è effettivamente differenziabile il punto 0 0 anche se le sue derivate parziali non sono continue in 0 0 quindi tenete presente che il terreno di differenziale totale è utile ma non è necessario però è sicuramente utile quando abbiamo la continuità ma non è necessario ma non è necessario di essere